Incontro positivo tra il tecnico Giovanni Pagliari e la società Rosso Blu con il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola, il presidente Corrado Chiodi e l'amministratore Elio Gizzi. Pagliari ha illustrato il suo progetto e le sue richieste. Clima disteso, volti sorridenti, massima fiducia che lunedì il CdA darà il suo ok per la conferma del mister. Occorre dunque attendere ancora qualche giorno ma l'incontro ha sciolto tutti i dubbi. Sia Pagliari sia l'Aquila vogliono proseguire il rapporto e dunque il mister della promozione, ripetiamo, se il CdA darà l'ok lunedì, siederà sulla panchina Rosso Blu anche la prossima stagione. Capitolo calciomercato. Resta vicino Lorenzo Del Pinto, il centrocampista di proprietà del Chieti. La società Rosso Blu dovrebbe presto bussare a Walter Bellia. L'accordo si può fare, mentre il sogno del presidente Corrado Chiodi resta il bomber nero-verde Claudio De Sosa. Su De Sosa c'è il pressing forte della Salernitana che però ha già in organico Guazzo, Ginestra e Grassi del Ponte d'Era. Chissà se il Crotone riuscirà ad avere il sì del giocatore vista la categoria della Serie B o chissà se la società Rosso Blu del presidente Corrado Chiodi avrà l'appeal per convincere Claudio De Sosa a vestire la maglia Rosso Blu la prossima stagione.